Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo di fronte a... Mi hanno appena detto che è venuto il signor Cognolato, il più grande restauratore del mondo e ha detto che è l'auto più interessante della fiera. Io sono venuto qui di cena da Alessandro Bruni che adesso intervisteremo, è già stato sul mio canale, ho detto che questa per me è l'auto più bella della fiera. La vincitrice di Autodepo a Capadua 2020 per me è questa splendida, meravigliosa Cisitalia 33 DF volo radente del 1954, disegnata dall'appena di partito grandissimo Aldo Brovarone. Un oggetto da pelle d'oca, un oggetto di una rarità ma di una bellezza, di una veramente parvietà a livello stilistico e anche a livello produttivo che la rende per me l'oggetto più interessante in assoluto di tutta questa fiera. Io sono senza parole, terraio numero 02 e chiederei al grande Alessandro Bruni che ho l'occasione di poter disturbare nuovamente dopo il bellissimo video della Fiat Pininfarina Coupé ad auto moto a Milano Autoclassica dell'anno scorso che ci racconta gentilmente che cos'è questa meraviglia di tecnica, meraviglia di design, meraviglia di capabilità artigianale italiana nella metà degli anni 50. Ciao Alessandro, benvenuto di nuovo su Bruce Garage da parte mia e di tutte le persone che ci seguono. Complimenti innanzitutto perché ti confermi sempre un grande esperto e anche capace di straviliarci sempre con oggetti rari, diversi, particolari, in questo caso addirittura eccezionali. Che macchina è? Sai complimenti l'hanno fatti Aldo Brovarone che ha disegnato questo bellissimo oggetto, questa bellissima automobile, quindi è una CIS Italia a 33 DF, voloradente. Voloradente, perché si chiamava voloradente? Tu che sei tutto? Cosa c'era? Questo probabilmente perché nella sua mente, nella sua testa, l'idea di quest'automobile che planava, che in effetti se la vedi su strada, è molto bassa, quindi ha questa linea molto sfuggente come potrebbe essere un aeroplano in decollo. Quindi probabilmente era per quello. L'automobile innanzitutto è il telaio 502, quindi è la prima costruita come coupé, perché la 501 era lo spider che fu presentato al Salone di Torino del 1953. Quindi era la 502 interamente in alluminio, quindi l'automobile completamente in alluminio e questa è la combinazione di colore che fu scelta dal suo proprietario, il signor Puzzarini, nel 1954. Bellissimo, l'abbianamento. Era stato l'autista del re Vittorio Emanuele. Penso te. E dopo guerra, nel 1954 acquistò quest'automobile. Allora, quindi il color sabbia nero è proprio la combinazione che scelse lui, e abbiamo parlato proprio con il familiare. L'automobile ha questo bellissimo motore, il suo motore d'origine, tipo 502, che è 1100-1089, con i due carburatori Weber in bronzo, come utilizzava Cisitalia già nelle prime vetture che realizzò, nel mediato dopoguerra, è un motore che ha tanta forza, poi la macchina è leggera, quindi è anche piacevole da guidare. Da condurre. Sì, sì, bellissimo. Io me ne sono innamorato quando l'ho vista, questa automobile è stata per me, è stata per cuore, perché era molti anni che non si vedeva più in Italia. Era in Italia, ma era in una collezione privata, è stata in una collezione privata per 11 anni, quindi è stato un piacere riportarla qui, fare vedere agli appassionati. E devo dire che ci sono molte persone che ne hanno apprezzato, il gesto nei confronti di Aldo Brovarone e anche il fatto di avere rivisto veramente un'automobile italiana, con lo stile italiano, che ci ha distinto nel mondo per tanti anni. Assolutamente, assolutamente. Ragazzi, the winner is questa meravigliosa Cisitalia, voi sapete che io non faccio preferenze, è stato un caso. Io quando sono arrivato l'ho vista, poi ho visto Alessandro e ho detto, pensate, cosa vi devo dire ragazzi, state con i bravi, voi lo sapete il mio hashtag è, state con i bravi e buona passione a tutti. Alessandro, grazie, grazie mille. Primo o poi, ha promesso anche Corrado che passeremo per quella tappa del ride lo presto che abbiamo dovuto a Firenze. Passeremo a salutarti, ne parlavamo addirittura la settimana scorsa, lo faremo appena possibile. Ciao Alessandro, viva sempre l'automobile, grazie mille, salutiamoci come ci si saluta adesso, grazie Alessandro, gentilissimo. Ragazzi, troppa bellezza, troppa bellezza, troppa bellezza e grazie mille, grazie mille anche ad Alessandro che è sempre gentilissimo. Ciao ragazzi, vi voglio bene, state connessi, commentate se vi va e viva le belle auto. Grazie mille.